Oggi vi parlo di un mio amico e l'amico di cui vi parlo è in cerca di una svolta. Non vi dirò il suo nome, ma vi condividerò giusto qualche cosa di lui. Questo mio amico è una persona molto intelligente, sensibile e anche molto determinato. Ma è tanto che aspetta che qualcosa cambi nella sua vita. È uno che si sforza molto, che ce la mette tutta, ma che gli sembra non basti. Si sente bloccato da tanto tempo nello stesso punto. Gli sembra di non prendere mai il giusto treno che passa, che tutti gli altri lo prendono prima di lui, mentre lui rimane indietro. Per questo a volte lo vedo scoraggiato, anche un po' amareggiato verso la vita. Conoscete anche voi un amico così? Qualcuno che si sente bloccato da tanto tempo, magari in un'area della sua vita. O qualcuno che è rimasto segnato da qualcosa che gli è accaduto. O che vorrebbe cambiare una parte di sé, ma che gli sembra non riuscire. O semplicemente qualcuno che magari è bloccato dalla paura. Quello che vedremo oggi è che Gesù ha il potere di guarirci da ogni cosa che ci blocca. Gesù ha il potere di guarirci da ogni cosa che ci blocca. La storia che vedremo oggi è la storia di un uomo che ha vissuto qualcosa di simile a questo mio amico o magari a questi nostri amici. Non conosciamo neanche il suo di noi. E magari questo oggi ci invita a dargli il nome di un nostro amico. Il nome di qualcuno che sappiamo che sta attraversando qualcosa di simile. O magari per alcuni di noi questa mattina il nostro nome. Vogliamo sicuramente che come sempre, anche oggi, questa sia una storia che parli ai nostri cuori. Ma vogliamo anche che sia una storia con cui noi poi parliamo ai cuori dei nostri amici. Cosa stanno vivendo le persone attorno a te? Come stanno i tuoi amici e cosa stanno attraversando? Ci interessiamo a loro e a quello che stanno vivendo? Gesù ci chiede di vivere in questo mondo come Lui ha fatto. E cioè avendo lo sguardo verso Dio e verso gli altri. rimanendo bene integrati nella realtà in cui viviamo. E non costruendoci perciò dei piccoli eremi che magari non sono caratterizzati da distanze fisiche dal mondo ma da distanze relazionali, emotive, di disinteresse. Quante persone notiamo durante la giornata? Questa settimana per chi hai pregato, oltre che per te e per i tuoi bisogni. Per quante persone siamo stati una presenza, un aiuto. È il punto centrale di questa serie. In verità è il punto centrale della nostra fede. Che vuole ricordare, con cui noi vogliamo ricordare a noi stessi qual è il nostro posto nel mondo. E cioè vicino a Dio e vicino agli altri. Vogliamo ricordare a noi stessi che Dio ci ha chiamato a venire a Lui ma anche ad andare verso gli altri. È il movimento del credente. È come il moto armonico del pendolo che oscilla da un lato all'altro. L'andare verso Dio e l'andare verso gli altri. È un unico movimento che ci fa capire se stiamo funzionando bene. C'è armonia nelle nostre vite quando andare verso Dio ci dà la spinta per andare verso gli altri. E viceversa. Stai oscillando bene? Sei in questa armonia oppure siamo fermi? Dio ci ha chiamato ad andare verso il nostro prossimo proprio come Gesù fece nella storia che leggiamo insieme adesso. Dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'è una vasca chiamata in ebraico Betesda che ha cinque portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi di ciechi, di zoppi, di paralitici i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua perché un angelo in determinati momenti scendeva nella vasca e agitava l'acqua e il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito da qualunque malattia fosse colpita. Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù veduto lo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così gli disse Vuoi guarire? L'infermo gli rispose Signore io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca e mentre io ci vengo un altro vi scende prima di me. Gesù gli disse Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. In quell'istante quell'uomo fu guarito e preso il suo lettuccio si mise a camminare. Ora quel giorno era sabato. In occasione di una festa giudaica Gesù salì a Gerusalemme. Ora la Giudea si trova più a sud della Galilea dove Gesù si trovava in quel momento ma ogni volta che nella Bibbia troviamo persone che vanno a Gerusalemme vediamo il verbo salire perché Gerusalemme è su un colle. La porta di ingresso che dava la parte nord-est della città si chiamava la porta delle pecore perché era da lì che le persone entravano con gli animali che dovevano poi sacrificare nel tempio che a sua volta si trovava nella parte nord della città. Ora in questa stessa zona quindi nella parte nord si trovava anche questa piscina chiamata Bethesda un nome che probabilmente significa casa della misericordia. aveva cinque portici e era fatta più o meno come possiamo vedere in questa foto qui eccola qua come vedete quattro portici erano da perimetro e uno era in mezzo centrale che divideva due vasche tra loro identiche. Lì su possiamo vedere quella che era la porta delle pecore la porta di ingresso alla città quindi più o meno possiamo immaginare qualcosa di simile. Questa piscina cos'era? Era una sorta di santuario dove le persone andavano a cercare una guarigione un po' come tanti di quelli che noi abbiamo oggi. C'era la credenza infatti che il primo che entrava nella vasca all'agitarsi dell'acqua veniva guarito. Una credenza che viene descritta in quella parte che abbiamo letto tra le parentesi quadre se avete fatto caso che è una parte del verso 3 e tutto il verso 4 che sono stati aggiunti nei manoscritti successivi nei primi manoscritti non si trovano. Perché? Perché è probabile che allora questa cosa fosse abbastanza conosciuta poi nel tempo chiaramente si è persa il ricordo di questo e allora è stata aggiunta una spiegazione per far capire il contesto della storia altrimenti non si capiva perché quest'uomo aspettava l'agitarsi dell'acqua. Questa credenza era anche legata al fatto che in quella parte nord della città non c'era soltanto il grande tempio ebraico che rappresentava la presenza di Dio ma anche uno dei tanti tempi pagani della società greco-romana che erano arrivati anche in Israele. Era un tempio dedicato ad Esculapio il dio romano della medicina che prende il nome poco diverso da quello greco che lo aveva preceduto e che era un tempio dove le persone andavano indovinate un po' a cercare delle guarigioni. Una curiosità a Roma il tempio di Esculapio si trovava nell'isola Tiberina dove oggi sorge l'ospedale Fatebene Fratelli. Tutto questo ci aiuta a capire meglio il contesto di questa storia e anche il significato di questa piscina e perché sotto questi portici si radunava così tanta gente malata. Era un luogo di speranza. Un'ultima spiaggia. Erano lì tutti in cerca della stessa cosa. tutti speravano di arrivare lì e trovare guarigione. Tutti andavano lì in cerca di una svolta. E questa è la prima verità su cui questa storia ci fa riflettere. Che è questa? Tutti cerchiamo luoghi della svolta. Tutti cerchiamo luoghi della svolta nella nostra vita. Tutti in fin dei conti siamo alla ricerca di qualcosa di molto simile. ognuno con la propria storia e con le proprie infermità. Tutti abbiamo cercato o magari stiamo cercando luoghi in cui riponiamo aspettative di cambiamento. Cose in cui diciamo a noi stessi se riesco ad arrivare lì qualcosa finalmente accadrà. Se riesco a raggiungere quell'obiettivo allora le cose cambieranno. Se riesco a ottenere quella cosa allora tutto sarà diverso. sono cose su cui abbiamo attribuito a cui abbiamo attribuito un potere speciale sulla nostra vita. Una sorta di tempio alternativo in cui andiamo in cerca del nostro miracolo. Se avrò quella promozione se trovo l'anima gemella se avrò un figlio se troverò il posto fisso in Italia se sarò come quella persona lì se riuscirò a cambiare città se a seconda delle nostre storie possono essere cose diverse non necessariamente sbagliate ma sono cose a cui noi abbiamo dato un potere speciale sulla nostra vita un potere condizionante se cose a cui guardiamo con grandi aspettative quali sono queste cose per te quali sono queste cose per i tuoi amici per i tuoi colleghi è interessante che questa piscina si trovava non lontano dal tempio che rappresentava la presenza di Dio e è spesso quello che capita anche a noi e ai nostri amici andiamo a cercare cose che solo Dio può darci nei luoghi che provano ad imitarlo andiamo a cercare cose che solo Dio può darci in quei luoghi che provano ad imitarlo luoghi che si vestono di una speranza simile ma che come nel caso di quest'uomo non possono garantirci risultati luoghi o persone su cui noi poniamo delle aspettative che possiamo mettere soltanto su Dio anche noi a volte dobbiamo ammettere che ci troviamo ad entrare nel tempio sbagliato ed è lì che possiamo trovare anche i nostri amici e colleghi sono luoghi molto frequentati come lo era questa piscina ma il bello di questa storia è che non finisce in questa piscina ma inizia in questa piscina inizia in questo luogo è proprio lì in un santuario vicino ad un tempio pagano che Gesù entra perché la bellezza di Gesù è che ama cercare non era qualcuno che se ne stava seduto in attesa di essere cercato oscillava armoniosamente verso il padre e verso gli altri Gesù sa sempre dove trovare un cuore che lo cerca non importa dove si trovi quel cuore in quale tempio in quale discoteca in quale stadio in quale biblioteca o università in quale casa o teatro Gesù sa sempre dove trovare un cuore che lo cerca entrò volutamente in quella piscina camminò sotto quei portici in mezzo a tutta quella gente malata si guardò attorno finché vide un uomo steso infermo da 38 anni e andò da lui perché proprio quell'uomo perché non qualcun altro o perché non tutti in questa storia perché questa storia è anche per me per te e per i nostri amici cosa rappresenta quest'uomo considerando la durata della vita all'epoca e il tempo da cui era infermo ormai 38 anni possiamo dire che era un caso senza speranza fuori da ogni possibilità di soluzione che era un uomo che sicuramente le aveva già provate tutte che aveva dimenticato cosa significasse stare bene un uomo che era più familiare con le sue limitazioni che con il suo benessere perciò un uomo stanco disilluso provato Gesù non scelse un caso semplice ma uno tra i più difficili per parlare a me a te e ai nostri amici è da lui che Gesù andò e quando lo vide gli chiese vuoi guarire? sembra una domanda strana dalla risposta scontata ma in realtà è una domanda sincera perché per quanto ci possa stupire non è sempre vero che vogliamo guarire guarire significa cambiare significa accettare gli effetti di un cambiamento nella nostra vita significa collaborare con quel cambiamento e non rimanere passivi non riceverlo passivamente significa anche dover lasciare una condizione a cui in fin dei conti ci siamo abituati da tempo una condizione con cui abbiamo imparato a convivere significa mettere da parte anche quelle scuse che magari abbiamo iniziato a raccontarci per evitare di pagare il prezzo di quel cambiamento o per dover affrontare la paura che ci fa riconosci qualche scusa o qualche paura nel tuo amico o in te è per questo che Gesù chiese a quell'uomo vuoi guarire è una domanda con cui lo costrenza a fare due cose a guardare alla radice del suo cuore cos'è che voglio veramente sono disposto e a guardare alla fonte della sua guarigione che non era l'acqua di quella piscina ma la persona che gli stava davanti e che gli stava parlando e questo ci porta a riflettere sulla seconda verità che questa storia ci regala e che è questa dove cerchiamo è ugualmente importante a cosa cerchiamo dove cerchiamo è ugualmente importante a cosa cerchiamo con quella domanda Gesù catturò pienamente l'attenzione di quest'uomo e lo portò a riflettere su cosa stava cercando e su dove lo stava cercando è una domanda con cui lo spinse a guardarsi dentro ma anche alzare il suo sguardo e a guardare a quell'uomo che gli parlava se anche noi prendiamo il coraggio di guardarci dentro di guardare nei nostri cuori ci accorgiamo che spesso quello che spesso cerchiamo quello di cui abbiamo bisogno in cose che non sempre possono darcele o che inseguiamo alcune cose solo perché il mondo in cui viviamo le considera importanti o magari perché sentiamo di dover compensare un vuoto o un senso di inferiorità che sentiamo dentro di noi un teologo e scrittore olandese scrive in un libro che ho letto recentemente scrive questo a questo proposito il mondo in cui sono cresciuto parlando di se stesso è un mondo così pieno di voti punteggi statistiche che consciamente o inconsciamente cerco sempre di misurarmi con tutti gli altri molta tristezza e molta gioia nella mia vita derivano dal mio paragonarmi ad altri e la maggior parte se non tutto di questo mio continuo paragonarmi è inutile ed è un terribile spreco di tempo ed energia il nostro Dio non fa confronto Dio ama con un amore divino un amore che riconosce a tutte le donne e a tutti gli uomini la loro unicità senza mai fare paragoni dov'è che stai cercando la tua unicità dov'è che la stanno cercando i miei amici e i tuoi amici con quale domanda possiamo aiutare noi stessi e gli altri a capirlo la domanda di Gesù vuoi guarire lo aiutò a riconoscere cosa stava cercando e dove lo stava cercando ed ecco cosa gli rispose quell'uomo il paralitico rileggiamo questo versetto il 7 signore io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca e mentre vengo io ci vengo io o un altro vi scende prima di me la risposta più naturale di quell'uomo sarebbe stata certo che voglio guarire sono qua per questo non ti pare ovvio è quello che ci saremmo aspettati di sentire no? ma la sua risposta sembrava dire qualcosa che suona più o meno così si voglio guarire voglio guarire ma non posso dare fuori dal suo cuore tanto la sua disperazione quanto la sua solitudine facendogli questa domanda lo costrinse a guardare a Gesù a distogliere i suoi occhi da queste due cose dalle acque su cui aveva riposto la sua speranza ma a cui sapeva di non riuscire a arrivare e chissà se mentre stavano parlando blu 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 magari le acque iniziavano a ribollire da chi sarebbe e l'altra cosa da cui doveva distogliere lo sguardo era da chi sarebbe arrivato prima di lui perché questo gli avrebbe ricordato quanto solo era perché non c'era nessuno disposto a prenderlo e a portarlo lì non è così anche per noi le cose che ci bloccano spesso ci isolano e ci fanno sentire da soli con quella domanda Gesù tirò fuori quello che c'era nel suo cuore e lo portò a guardare nella giusta direzione lo costrinse a fermare il suo sguardo sugli occhi e sul volto di Gesù ad ignorare in quel momento tutto quello che gli stava accadendo attorno come se all'improvviso si fosse fatto silenzio in mezzo a tutta quella confusione e chiarezza in mezzo a quel disordine ora aspettava che quell'uomo che gli aveva fatto quella domanda facesse qualcosa perché me l'hai chiesto cosa hai tu da darmi si riaccese in lui una speranza e ora che il suo sguardo era fisso su Gesù gli disse su di lui Gesù gli disse alzati prendi il tuo lettuccio e cammina in quell'istante subito al suono di quelle parole che iniziavano ad entrare dentro al suo cuore mentre continuava a fissare Gesù iniziò a sentire un fiume d'acqua viva che scorreva dentro di lui e che arrivava fino a quelle gambe secche da 38 anni che tornavano in vita non fu nemmeno sfiorato bagnato da quell'acqua neanche uno schizzo arrivò su di lui perché l'acqua della vita era quello che gli stava parlando era lui che lo aveva guarito era l'uomo che gli parlava la fonte della sua guarigione e questo ci porta alla nostra terza e ultima verità su cui questa storia ci fa riflettere che è questa quando ancoriamo il nostro sguardo su Gesù accade sempre qualcosa di grande sempre qualcosa di grande quando ancoriamo il nostro sguardo su Gesù accade sempre qualcosa di grande e io ho l'impressione che io e te a volte lo dimentichiamo quando i nostri occhi spirituali si fermano su Gesù distogliendoli dalle cose che ci distraggono quando le nostre orecchie smettono di sentire tutto il rumore attorno a noi si concentrano sulla sua voce qualcosa di grande accade dentro di noi la sua voce ci riporta in vita la sua voce ci rialza la sua voce inizia a sciogliere tutti quei legami che dentro di noi ci bloccavano a volte dobbiamo bloccare il nostro sguardo per sbloccare le circostanze dentro e intorno a noi dobbiamo riportare la nostra fede nel posto giusto come è scritto nella lettera agli ebrei dove l'autore dice queste parole fissando lo sguardo su Gesù colui che crea la fede e la rende perfetta quando ancoriamo il nostro sguardo su Gesù qualcosa di grande accade sempre dentro di noi un teologo commentando quest'ultimo brano scrive queste parole la cecità si era impossessata di queste persone alla piscina c'erano loro e c'era Cristo che poteva guarirli ma nessuno di loro lo cercava i loro occhi erano fissi su quell'acqua aspettandosi che venisse turbata erano così presi dalla loro via che non vedevano la vera via non è così anche per noi a volte siamo così presi dalle nostre vie che non vediamo la vera via che ci sta davanti possiamo essere così concentrati sul concentrare la nostra svolta sul concentrarci sulla nostra svolta da non cercare Cristo Gesù compì questo miracolo nella piscina di Betesda per dimostrare la potenza di Dio su ogni superstizione umana non furono quelle acque a guarire quell'uomo ma Gesù Gesù compì questo miracolo per quest'uomo per darci la speranza che non c'è niente di troppo difficile per Dio non importa da quanto tempo ce lo portiamo dietro quello che abbiamo aspettato per un lungo tempo a volte con Gesù può accadere in un attimo Gesù compì questo miracolo per riportare la sua attenzione e la nostra su di Lui quello che tanto cerchiamo in altri luoghi lo troviamo in Lui in Gesù Gesù disse a quell'uomo alzati prendi il tuo lettuccio e cammina avrebbe semplicemente potuto dirgli alzati e cammina ma gli disse di portarsi dietro il suo lettuccio voleva che quell'uomo fosse non soltanto guarito dalla sua infermità ma che questa diventasse una testimonianza per altri perché in qualche modo Lui potesse dire ad altri ehi gente io sono quello là quello senza speranza guardate come salto Gesù trasforma le nostre difficoltà sempre in testimonianza Gesù trasforma le nostre difficoltà sempre in testimonianza quali tue difficoltà possono essere una testimonianza per i tuoi amici per i tuoi colleghi con quale lettuccio andrai da loro per dirgli che c'è speranza questa storia ci insegna che Gesù ha il potere di guarirci da ogni cosa che ci tiene bloccati abbiamo visto che tutti cerchiamo luoghi della svolta anche i nostri amici Gesù andò a cercare quell'uomo io e te stiamo andando a cercare i nostri amici abbiamo anche visto che dove cerchiamo è ugualmente importante a cosa cerchiamo cosa stiamo cercando in questo momento e dove e stiamo aiutando le persone attorno a noi a farsi la stessa domanda e abbiamo anche visto che quando ancoriamo il nostro sguardo su Gesù accade sempre qualcosa di grande Dì al cuore tuo quando ancor il mio sguardo su Gesù accade sempre qualcosa di grande stiamo guardando a lui distrattamente o intensamente stiamo andando dai nostri amici con il nostro lettuccio di speranza oppure stiamo costruendo eremi non fatti di distanze fisiche ma relazionali e di interesse stiamo oscillando in modo armonico come un pendolo significa che siamo vivi che funzioniamo non importa la velocità chi va verso Dio va verso gli altri chi va verso gli altri torna verso Dio è così questa è la storia della nostra vita con Gesù portiamo di nuovo al nostro cuore le verità che Dio ci dà perché possiamo farle nostre e perché possiamo non essere gelosi di qualcosa che è per noi gratuitamente avete ricevuto gratuitamente date qualcuno ha oscillato armoniosamente fino a venirci a cercare e magari gli è costato tanto venirci a cercare magari gli è costato anche il nostro ricetto quando sono stata cercata le persone che mi hanno cercato hanno preso anche il mio ricetto le mie accuse i miei no il mio orgoglio tutto ciò che potevo dire per alzare i temori ma non hanno smesso ora se noi siamo stati amati di un amore così grande abbiamo davvero l'egoismo di tenerlo per noi oppure siamo veri discepoli del nostro maestro per andare a portare ad altri con le nostre fragilità con i nostri lettucci non abbiamo niente di cui vantarci ma la speranza che è stata portata a noi ed è quello che vogliamo fare adesso vogliamo andare da Dio insieme come comunità e vogliamo ricordare fino a che punto Dio è stato disposto Gesù è stato disposto a cercarci fino a quale prezzo è stato disposto a pagare per me e per te e lo facciamo prendendo i simboli insieme come comunità prendendo il pane e prendendo il vino per poi tornare al posto e lo prenderemo tutti insieme vogliamo ricordare che per le sue lividure noi siamo stati guariti dal nostro peccato però prima di alzarci e andarlo a prendere vogliamo anche ricordare a noi stessi il valore di questi simboli è un valore che riceviamo ma è un valore che dichiariamo sotto quali verità noi stiamo vivendo abbiamo scelto di vivere la nostra vita stiamo dicendo che ogni vero discepolo di Gesù non vive dentro un eremo ma vive in mezzo agli altri che ogni discepolo di Gesù fa quello che il maestro ha fatto si spende per gli altri suda per gli altri fatica per gli altri non è seduto si alza se si deve togliere qualcosa per darlo agli altri lo fa stiamo siamo quella chiesa noi dell'occidente perdonatemi se mi sto facendo prendere da un po' di passione ma noi occidentali siamo quella chiesa mentre i nostri fratelli in altre parti del mondo muoiono per la loro fede chi siamo noi oggi parlo prima a me prima di tutto a me questo è il Vangelo che abbiamo ricevuto questo è il Vangelo per cui viviamo si è un Vangelo che ci dà la pienezza della vita ma è un Vangelo che ci muove ci sposta voglio essere spostata dal Vangelo voglio essere trasformata dal Vangelo è questo quello che tu vuoi se sì allora adesso puoi alzarti andare uno degli angoli vicino a te prendere il pane prendere il vino ma ricordiamoci è questo quello che stiamo dichiarando oggi veniamo a Dio insieme in chiesa ma fuori da qua andiamo come il pendolo fuori ho voglia di dare ad altri questo è il Vangelo e ti chiedo mi chiedo a me stessa di prendere i simboli con questa con questa solennità con questa integrità di cuore che non è perfezione ma è direzione eh se sei qui invece per la prima volta se tutto questo è ancora un po' nuovo per te ti invito a pensare alla bellezza di Gesù se oggi sei qui è perché è venuto a cercarti e vogliamo che questa sia per te una casa di misericordia che tu possa avere la possibilità di ricevere Gesù se vuoi fare questo oggi puoi farlo con una semplice preghiera in cui ricevi Gesù nella tua vita lo ringrazi per chi lui è credi che lui è il padre il figlio lo spirito santo che è venuto a dare la sua vita per te e lo prendi lo ricevi dentro al tuo cuore se vuoi possiamo anche farlo insieme durante la lode e vieni qui avanti possiamo alzarti ora e andare a quattro angoli e prendere il pane 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 e prendere il pane